questa serata è una serata di sfida a un gradito ospite a casa mia che è arrivato con questo qui è già un quarto d'ora che sto smanettando e mi viene già voglia di buttarlo via dalla finestra il famosissimo cubo di rubik questa invenzione infernale allora lui mi ha sfidato e ovviamente ci ho provato ma con scarsissimi risultati allora questo mio ospite è un ospite particolare perché è un bambino ma è un ragazzino 12 anni che arriva da mosca e vabbè io non so lui come e se lo sappia fare bene suppongo di sì quindi adesso voglio proprio vedere come farà con questo dannatissimo coso va bene chiamerei subito il ragazzo per vedere se lui riesce a farlo lui è fin ciao non sa parlare per niente italiano però a quanto dice sa fare il cubo di rubik quindi vediamo qualcosa mi dice che sa farlo pensavo di riuscire almeno a mangiare la banana ma...bravo! poi quando imparo come si fa a chiedergli chiedo che tipo di sostanze usa per riuscire a fare una cosa del genere quando è che vai a casa tua che mi sei anche già un po' antipatico? anzi facciamo una bella cosa voglio vedere... anche io credo che questo sia un Guinness, un ragazzo di 12 anni che ha un cubo di rubik in... boh non so quanto tempo, voglio cronometrarlo adesso li lo mischio per bene che bastardo che so voglio cronometrare ok? ti do io il via allora questo è il cronometro pronti? partenza? go! intanto mi fisco la banana digamos che vediamo se para l'arrivo Ragazzi era 1 minuto 21 secondi, adesso ho sbagliato io a fermare, 12 anni, cubo di looping in meno di un minuto e mezzo, bravo, dimmi il file! Il ragazzo ha detto che ci vuole riprovare, quindi tenterà un nuovo record qui a casa mia, ho questo onore, lo faccio da un'altra angolazione. Allora pronti, partenza, via! Allora prima ce l'ha fatta in meno di un minuto e mezzo, ora vediamo! Il ragazzo è super impegnato! Un minuto! E nuovo record a casa di Luca Zed! Grande! GAMIFIRE! Super! Super!